Dopo il grande successo dello scorso anno torna anche quest'anno la Notte Rosa dei Bambini, un evento che si svilupperà per tutto il lungomare di Tortoreto appunto. Per quest'anno cosa è previsto? Allora per quest'anno abbiamo degli eventi importanti come il famoso Ludo, Spompieropoli, la scalata del Gran Sasso, abbiamo il famoso Mago Potter dove gli cade la testa. Tutti i personaggi anche a livello nazionale importanti, interessanti. Avremo questi tre chilometri dove coinvolgeremo tutte le famiglie con i loro figli, in un paese dei balocchi immerso nel colore rosa dove tutti i bambini per un giorno potranno gioire serenamente su questo lungomare aperto, vivibile, con una felicità di un paese dei balocchi stupendo e meraviglioso. Appuntamento domenica 26 giugno con inizio alle ore 18, coinvolti tutti gli chalet del lungomare di Tortoreto da una idea, ricordiamo, dell'associazione Balneator. Sì, infatti questa idea è familiare, di famiglia. Tortoreto sta diventando negli anni una grande famiglia e il punto cardine della manifestazione sono appunto le famiglie. Quindi ricordiamoci che la felicità è una scelta, quindi accorrete tutti, vi aspettiamo. Nel dettaglio chalet show, quindi attività di animazione davanti ad ogni chalet poi? Chalet show, quindi ogni chalet appunto organizza la sua attività di animazione e inoltre abbiamo previsto anche delle attività in tutte le rotonde, in tutti i luoghi pubblici del lungomare per dare un po' una visione d'insieme su tutti i tre chilometri dalla costa tortoretana. Quindi ci saranno attrazioni di ogni tipo e in particolare saranno due bandi itineranti che da nord a sud, da sud a nord e nel verso opposto, una che fa musica con figuranti travestiti da clown e poi ci saranno dei trampolieri molto particolari, quindi la festa sarà coinvolgente, adatta non solo ai bambini ma anche agli adulti che vogliono tornare bambini per un giorno. No ecco.